Eravamo in Francia. Nel 2010 avevo 10 anni. Il mondo intorno a noi sembrava impazzito. La famiglia di Youssef è stata espulsa perché erano clandestini, proprio come me. Con Blaise, Youssef e Ali eravamo una piccola banda. Nessuno poteva immaginare che avremmo cambiato il mondo. Silenzio, un po' di silenzio per favore. Ci sono tre famiglie, cioè cinque bambini in pericolo che dobbiamo aiutare. E quanto tempo resterà? Ma non lo sappiamo, la ospitiamo. E me la porto in vacanza. Approvi dei genitori che strumentalizzano i figli per poter ottenere i documenti. Sarebbe questa la tua coscienza civile. Domani è il grande giorno. Domani? Non hai uno più piccolo. Ma no, dai, prendiamo questo. Questo è il momento decisivo, staremo come in un sottomarino. Misteriosa sparizione in una scuola pubblica. Genitori e insegnanti si sono accorti della scomparsa di Milana e Claudio di un... Allora, signor Tana, dove sono i suoi amici? Tre, cinque vuol dire pericolo, nascondiglio. Ma no, pericolo non andate fuori, restate lì dentro. Sì, d'accordo, ma non ne posso più di biscotti. Questo sei tu. E... Questa sono io. Qui c'è la polizia. Non dobbiamo farci prendere. I sei bambini scomparsi in Bretagna, in segno di solidarietà con gli altri quattro scomparsi da Parigi, sono stati ritrovati. Ma Milana è stata regolarizzata. Che cosa vogliono di più? Vogliono di più. Che cosa vogliono di più? 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 Grazie a tutti